Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con un video review di Elabitalian Podcast. Io sono Stefano, la voce di questo progetto e anche oggi sono qua per raccontarvi quello che ho visto. Di che cosa? Ovviamente di Battle of the Belts. Andato in onda la scorsa notte, tra sabato e domenica, il giorno praticamente di Pasqua, e sono qua per raccontarvi un pochino quello che ho visto, le mie impressioni, quello che è stato. Sostanzialmente il tutto era una sorta di showcase per mostrare alcuni titoli, ma non pensavo ci fossero grandissime cose da raccontare. In realtà, proprio con il primissimo match, qualcosina comincia già a dover essere affrontato. Partiamo quindi con Sammy Guevara che riesce a vincere per la terza volta il titolo TNT. Qual è la scelta? È una scelta molto delicata. Allora, Sammy Guevara e TNT hanno iniziato un percorso in cui erano sostanzialmente messi sotto dai Man of the Year che rompevano le palle, gli andavano contro e facevano dei promo contro di loro. Gli avevano portato a piedi Van Zandt, la quale ormai fa parte di AEW totalmente, e sostanzialmente erano gli Hill che andavano contro Sammy Guevara. In questo loro andare contro Sammy Guevara, purtroppo, sono andati, diciamo, a inserire all'interno della FAID anche Tai Conti, che sappiamo molto bene, è tutto pubblico, essere la compagna proprio di Sammy Guevara. Questa cosa ha portato, ovviamente, i due ad avere un confronto molto aperto, molto acceso, e anche molto crudo con i Man of the Year e soprattutto con Dan Lambert, il che ha portato sostanzialmente a quella che doveva essere. Nella situazione in cui Sammy Guevara e Tai Conti erano i Face, mentre i Man of the Year erano gli Hill. E c'è un problema, questa cosa non ha funzionato minimamente, cioè Cody e Brandy, che all'epoca erano Hill e con questa mossa hanno cercato di ritornare Face, è stato un pochino l'ultimo tentativo di provare a rimettere in riga la questione Cody per provarlo a portare Face, non ci sono riusciti, beh, spoiler alert, non ce la fanno neanche. Sammy Guevara e Tai Conti, quali? Iniziando a mostrare il loro essere coppia, cosa che già non era piaciuta all'inizio. Ora, non voglio entrare nel gossip, però, nonostante ci fossero voci per cui il buon Sammy Guevara avesse lasciato già la fidanzata, la quale aveva ricevuto una proposta di matrimonio direttamente, è uno spettacolo della whole elite. Beh, sostanzialmente c'erano voci su di loro che si erano lasciati, Tai Conti, che aveva divorziato dal marito, poco dopo salta fuori che Tai Conti e Sammy Guevara stanno insieme. Cosa legittima, ci mancherebbe altro, voi moralisti non cominciate a rompere i coglioni con questa storia. È normale, ci sta e ci mancherebbe altro. Se davvero il cuore non si comanda, non si comanda, e soprattutto i cazzi degli altri non ci si fanno, no? Quindi, tranquillo, loro vogliono stare insieme e fanno bene a stare insieme, si piacciono, si amano, va benissimo così. Qual è il problema? Il problema è che questa cosa, però, portata a un screen, ha destato qualche problema. Non si pensava ne destasse così tanti, invece, nelle ultime due, tre apparizioni di Sammy Guevara e Tai Conti, quello che era il loro lato di Face, si è un pochino trasformato e il pubblico ha reagito in modo assolutamente allucinante. Allora, dovete immaginarvi che un babyface normalmente subisce e poi a un certo punto prova le controoffensive, poi subisce ancora, poi in teoria si deve vincere, ritorna in auge e riesce con il comeback finale a portare a casa la vittoria. In questo caso, Lil era chiaramente Sammy Guevara. L'avete visto? Prendeva la scena per la maggior parte del tempo e soprattutto lavorava su uno Scorpio Sky in modo anche abbastanza scorretto, con delle dinamiche che non sono particolarmente ill, ma abbastanza ill. Tipo quando strofinava l'avambraccio sulla faccia di Scorpio Sky, quella roba che normalmente fanno gli ill, non fanno i Face, e il pubblico rumoreggiava, e rumoreggiava parecchio. Tra l'altro, poi, quando la contesa era a favore di Sammy Guevara, c'era un pochino di tranquillità di troppo da parte del pubblico, quando invece l'offensiva passava a Scorpio Sky, bene, cosa cambiavano? E migliorava, il pubblico era contento. Ed è un problema se il tuo Face è quello che viene tifato meno. Beh, sostanzialmente a un certo punto la contesa si porta con un litigio fortissimo tra Dan Lambert e Taekwondo, che porta ovviamente all'ingresso di Paige Van Zandt, la quale va contro Taekwondo e poi ne perdiamo le tracce perché la scena sul ring riporta un low blow di Sammy Guevara accolto malamente dal pubblico. Cioè, un low blow di un Face a un ill non è mai cosa positiva. In questo caso ha praticamente trasformato Sammy Guevara in un ill. Cosa succede poi? Vince a causa di questo low blow? Avremo i meni of the year che non sapremo assolutamente come faranno a diventare Face o ill. È imbarazzante questa cosa perché loro sono praticamente degli ill naturalissimi con Dan Lambert che è in grado di fare questo lavoro in modo egregio. Ma Sammy Guevara? Sammy Guevara quando è uscito ha cominciato a limonare pesantemente tra i conti, ma il pubblico non era contento, rumoreggiava tanto. E saranno tanti quelli che storceranno il naso e avranno da dire. Non tanto per il limone duro, chi se ne frega, ma proprio per il fatto che Sammy Guevara ha vinto ancora questo titolo, questa faida poteva andare avanti in un altro modo, Sammy Guevara in realtà si è comportato da ill, Sammy Guevara è un ill naturale, avete visto che faccia che ha. Chiunque di noi vorrebbe prenderla a schiaffi, ci mancherebbe altro. Non è piaciuto proprio questa cosa della coppia felice e molto aperta. Non è piaciuta al pubblico. E quindi ci troviamo con un ribaltamento dei ruoli fondamentale. E quindi è un problema gigante. Perché se ci pensate questo è un ribaltamento di ruoli che non credo fosse tanto aspettato. Probabilmente c'erano avvisagli e quindi Tony Cagli ha detto guarda se capita che il pubblico vi dà proprio contro, voi esagerate come coppia. Cerchiamo di portarla da quella parte lì. E loro l'hanno fatto perché hanno limonato, praticamente si sono viste le lingue. E quindi chiaramente hanno fatto qualcosa di molto eccessivo. Un festeggiamento troppo eccessivo. Il pubblico non ama queste cose, lo sapete. Io non lo so, non sono contento della vittoria di Sammy Guevara. Avrei preferito vedere Scorpio Sky portare avanti il suo regno con quel pizzico di atteggiamento Hill abbastanza marcato da Dan Lambert. Insomma, avrei voluto vedere un po' questa storia andare avanti in un modo diverso. È chiaro che c'è una storia oggi intorno al titolo TNT. È molto debole. E serve più questa storia a portare Sammy Guevara dalla parte degli Hill che a dare prestigio al titolo. Quindi, non lo so, non la promuovo. Non la promuovo, diciamo così. Attendo, vediamo come si svolgeranno le prossime situazioni e cosa riusciranno a fare poi i nostri eroi. Si dice così, no? Sammy Guevara non è un mio eroe. È una persona a cui voglio discretamente bene da un punto di vista del wrestling, però niente di più, niente di meno. Passando invece al secondo match, era valevole per il titolo Ringo Bonner. Ci sono stati Dalton Kestle e John Cresham che hanno fatto un match onesto. Devo dire onesto, in realtà Gresham non mi piace. E non mi è piaciuto quasi per niente in questo match. Io lo trovo farginoso e non tecnico, non high flyer, fisicamente poco strutturato. Dalton Kestle mi piace per esempio di più. Un personaggio, quantomeno. E hanno fatto molto bene il lato wrestling, no? Proprio le mosse, le prese, i counter. Quelli sono andati molto bene. Cosa non è andato molto bene invece al risultato finale? Cioè nel senso che, alla fine dei conti, questo match non è mai decollato, non è mai... Non era nemmeno un match da indie, era un match così. Molto scolastico, ok? Non l'ho apprezzato molto. Ho apprezzato invece di più la parte finale, dove ovviamente devono portare avanti il discorso di Jay Little che vuole andare per il titolo, di questo gigante Satnam Singh. Nei prossimi giorni uscirà un video che parlerà proprio di Satnam Singh. Quindi tenete d'occhio i nostri canali, perché ovviamente sarà importante parlarne. E sostanzialmente quello che succederà intorno al personaggio Satnam Singh cercheremo di scoprirlo nel più breve tempo possibile, per quanto sia complicato. E complicato finché non lo vedremo lottare. Però questo c'è. Almeno si muove normalmente. Il match non ha dato molto, il titolo non avrebbe mai cambiato mano in questo momento. Sono contento di aver visto un titolo della Ring of Honor piazzato qui dentro a Battle of the Belts, perché comunque ha dato un po' di prestigio al titolo Ring of Honor, che comunque davanti a così tante persone non si è mai visto. Ring of Honor bisogna ricordarla questa cosa, cioè anche in tv erano assolutamente anonimi da un punto di vista degli ascolti, no? Quindi il fatto di portare questo titolo davanti a tantissime persone. L'attacco finale ovviamente ha portato fuori anche un samoggio che pare essere assolutamente allineato a Jonathan Gresham e vedremo cosa succederà. Sicuramente c'è hype e spero vivamente che il prossimo annuncio di Tony Khan non sia il super show con la New Japan, ma sia qualcosa che riguarda la Ring of Honor, perché comunque, al di là di quello che è stato fatto, e sono cose molto, molto visibili, semplici, assolutamente superficiali, l'annuncio dell'acquisto, un pay-per-view e due difese titolate a Dynamite. Per il resto sulla Ring of Honor sappiamo veramente troppo poco. Vogliamo di più! Signor Tony Khan, ci dica di più sulla Ring of Honor. Non ci interessa un cazzo del super show con la New Japan. Sì, lo so che molti di voi si faranno le seghe, ma non importa. Non è quello che ci interessa, perché quello lì sarebbe un super show una notte via. L'altra invece è un rapporto che deve continuare per un po' di tempo. Questo era un po', per ricordare anche se è Megavarata i conti. Ultimo match, quello di Thunder Rosa contro Naila Rose. Un paio di cose sono andate veramente storte. Per il resto un match onesto. La vittoria di Thunder Rosa è stata abbastanza semplice. Un roll-up finale che ha tenuto aperto una porta per avere un possibile a un certo punto Naila Rose che dice sì, però io il titolo potrei ancora andarlo a prendere perché mi hai battuto solo con un roll-up. Non c'è stata una vittoria nettissima. Qualche errore di troppo che non ho amato particolarmente durante il match. Sono invece contento che sia stato il main event perché giustamente Thunder Rosa ha fatto tanto per la divisione femminile. Farà ancora tanto perché è lì per quello e meritava il main event. Dall'altra parte però, questo non era un messo main event. Parliamoci chiaro. La divisione femminile deve fare ancora qualcosina. Stanno facendo dei buoni passi. Se pensiamo soltanto a un anno fa, un anno e mezzo fa che la divisione femminile era veramente ai minimi termini. Oggi le cose stanno andando meglio però si deve fare ancora di più. Bisogna impegnarsi per fare di più. Contento che abbiano trovato un posto a Battle of the Bells. Devono però spingere un attimino perché se non spingono qualche problema magari lo troviamo. Contento di aver visto questi match? Abbastanza, dai. Avevo un'ora di tempo da perdere, l'ho persa. Però non è che abbiano dato tutta questa roba gigante. Sicuramente. È l'inizio di un percorso. Comunque una tappa importante di un percorso per Sammy Guevara. È un'altra tappa per il titolo Ringo Bonho e la tassa Naila Rose per il titolo femminile. Che pare che ogni ragazza che vincerà il titolo dovrà fare la tassa Naila Rose come prima sfidante. Vabbè. Però dai. Tutto sommato. Tutto bene quel che finisce bene. Cioè è arrivata la fine anche di Battle of the Bells e possiamo continuare a concentrarci su Dynamite e Rampage che stanno facendo invece cose molto molto buone. Mi chiedo seriamente se questi speciali siano così fondamentali per la All Elite se questi speciali abbiano questo sapore reale che vogliono dargli quelli della All Elite nel caso magari cambiare tipologia basterebbe chiamarlo con un altro nome basterebbe non forzare l'arrivo di alcuni titoli in card e potrebbe già essere una cosa abbastanza diversa. Ma è una cosa che scopriremo e vedremo sicuramente nel prossimo futuro per ora io vi ringrazio per aver seguito questa review ricordatevi di mettere un like se vi è piaciuto e di farci sapere cosa non va e che eventualmente potremmo cambiare nel nostro canale per renderlo ancora più bello e ancora più appetibile. Davvero grazie, grazie, grazie di cuore a tutti voi per aver seguito anche questa giornata di Pasqua e ora commentate, scrivete fatemi sapere le vostre impressioni su Battle of the Bells. Grazie di cuore a tutti. Noi ci risentiamo. Alla prossima!